Ho solo 60 secondi per dire tutto quello che voglio dire. Semplicemente vi voglio dire quali saranno le novità del canale. Parleremo di Alessia Rosati, scomparsa a Roma nel 1994, parleremo del delitto irrisolto di Liliana Resinovic, parleremo di Manolo Orlandi, cercheremo di parlare di Etto Majorana, abbiamo trovato un collegamento con una persona che ci può aiutare, quindi faremo tantissime cose. Bene, iscrivetevi al canale qua sotto se siete appassionati di crimini et simili e seguidemi anche su Instagram se volete, angelomarotto71. Riesco, sono riuscito a fare tutto quanto, io vi saluto, come dico sempre, con la tromba e con l'imbuto e rimanete con noi nelle live che sono molto importanti anche per far crescere il canale. Grazie mille.